Buongiorno ragazzi, buongiorno. Stavo per uscire, si è messo a piovere. Volevo fare un giretto ma... Mi tieno tutti i coglioni, cazzo. Era bello prima. Un po' di acqua per il verde va bene. Poteva piovere ieri, no? Oggi che sono libero io. Buono. Come smette un po', come smette un po', esco. Vediamo. Sono uscito, ho smesso di piovere. C'è un magello di gente. Giustamente il brutto tempo dove vanno al mare? No. Tutto nel paese, buttate. Un magello, un magello. Stavo cadendo. Niente ragazzi, scendo giù, vedo se vado sulla spiaggia, vi faccio vedere la spiaggia. Bene. C'è un manto di gente ragazzi. E' pieno per lei con madre mia. Piena veramente, piena, piena, piena di gente. La festa di carnevale non la fanno, ma penso che lunedì faranno qualcosa, vediamo. Non lo so. Non lo so, per il cannavalo non so niente. Ma è il tempo che ti ho capito. Ti ho capito. Se no era più pieno, sicuro. Ragazzi, oggi è una giornata così. Ha smesso di piovere adesso. vedete che è tutto bagnato vedete che sto in casa oggi sta tornando la pioggia ragazzi vedo che guardate poco i miei video non vi piacciono cosa volete che cambio ditemi come devo fare per accontentarvi ecco guardate come sta uscendo il sole dopo la pioggia siamo a marzo fra un po' giustamente fra un po' saremo a marzo proviamo un attimo al mare vediamo che c'è ecco qua la spiaggia giornata stupida storta brutta piove ci sta tutta che piove ci sta ci sta per me ci sta per quelle che vengono interie no però me la godo la pioggia ogni tanto quando c'è me la godo stanno preparando ad aprire qua mettono i tavolini ce la fanno ma sta ripiovendo cioè è nero proprio il cielo è nero di come è nero dovrebbe buttare tanto di quell'acqua e negarci però ne fa poca però se dovrebbe piovere se dovrebbe piovere 5-6 ore queste case cadono sono fatte con la carta pesta infatti l'anno scorso ha piovuto un po' abbastanza ma entrava qua in casa proprio dal tetto l'hanno sistemato ok però non sono caso come le nostre in Italia belle toste Dio mio belle toste meglio di qua sei sicuro e se li pagano queste cazze di case se li pagano li vendono care pure giustamente qui li hanno fatti in un modo che non piove mai pure se piove piove poco quindi ma se piove se dovessi piovere forte beh mi sa che fra un po' poi torna a piovere mi sa di sì oggi pioggia chicos io vado a fare un po' di spesa non vado al mercadona quando andrò gli farò il video a quel signore che me l'ha chiesto vedo se posso fare il video sotto adesso vedo di qualcosa guarda p***na sta tronando a piovere cazzo lo sapevo bene scendiamo giù quella dei spai niente non me l'hanno fatto fare il video lo sapevo già che rompevano la minchia guardate come ci allaghiamo con una pisciata d'acqua pensate se piova tantissimo adesso vado a casa e faccio vedere quanto ho speso questo qua è quello che ho comprato ragazzi un panino un pane una una costata formaggio una coca il latte detersivo i creches l'aranciata carteggienica biscotti girella e brioche ho speso se tolgo il tabacco ho speso 21 euro non so se è caro se è poco si vede 28 togliendo il tabacco 21 euro alla despare non so se è caro perché in Italia non bevono quasi da 4 anni quindi comunque questo è 21 euro ragazzi questo pezzetto vi saluto ci vediamo domani alle 5 faccio una diretta dato che riposo domani alle 5 vedo se posso mettere qualche foto che lo comunico non so come si fa a mettere una foto e comunicare che c'è la diretta domani devo imparare tante cose grazie ragazzi a tutti a quelle che mi seguono e a quelle che non mi seguono iscrivetevi mettete un like e grazie